Allora, Il mistero scorre sul fiume, è un film, ci provo a dirlo, di Wei Shujun, è un film cinese, poliziesco, drammatico, leggermente thriller, ma soprattutto giallo, che non è proprio un genere che va di moda. È un film che mi ha attratto tantissimo per la sua estetica, perché ci sono già delle scelte di fotografia particolari, dove vediamo proprio dei colori, delle cose che sembrano quasi non appartenere a quest'epoca. Il film è ambientato infatti negli anni 90, e effettivamente sembra quasi un film degli anni 90, quindi forse c'è la volontà di dare quella grana ai colori, alle immagini, che richiama un po' quell'epoca. Secondo me l'effetto è anche molto bello e riuscito, e a me piace tantissimo. È un film che ha una bella estetica, è anche una bella regia, una regia che lascia molto spazio ai luoghi, ai paesaggi, agli ambienti. Gli lascia il tempo di sprigionare la propria energia, ai personaggi all'interno degli spazi, gli lascia proprio tutto il tempo, quindi c'è un montaggio molto lento, molto sporadico, le inquadrature rimangono a lungo. Questo rende il film purtroppo davvero poco accessibile per un pubblico moderno, che non è pronto comunque a una sfida di questo tipo. Cioè è un film con un ritmo lento, un film si potrebbe dire anche orientale, perché spesso i film, per esempio i film giapponesi, alcuni film giapponesi sono molto lenti, hanno questo ritmo qua. Quindi l'ho trovato davvero lento, persino io, che amo il cinema lento. Però al contempo ha un suo ritmo, questa è una cosa, una sensazione che riesce a trasmetterti. Cioè non è un film che rallenta e quindi tu sei abituato a un certo ritmo, a un certo punto rallenta e ti un po'... No, ha proprio la stessa andatura, quindi è quasi un maratoneta che va pian pianino verso il suo traguardo. E' un thriller, è un giallo, che parla appunto di un omicidio. Questo detective cerca di capire chi ha ucciso questa nonna, questa nonna che ha un nome particolare che non vi svelo, e che si prendeva cura anche di alcune persone un po' svitate, insomma stiamo parlando di un quartiere povero. E questo detective sta vivendo un momento della sua vita personale di cambiamento, ma al contempo è una persona molto mite, non parla, non esprime molto i suoi sentimenti. Quindi anche questo non aiuta molto alla fruizione della prima parte del film. Però rende molto più affascinante e curioso il personaggio del detective, che poi quando avrà dei momenti in cui appunto verrà fuori la sua personalità, appunto tutta questa attesa li renderà un pochino più piacevoli, perché vederlo comunque poi esprimersi sarà anche gradevole. Dopo comunque una buona parte di film dove veramente troviamo una persona di poche parole, un personaggio duro, troppo concentrato sul suo lavoro, su questo lavoro di detective. È un film che mi ha messo molto in difficoltà e se non avesse una parte che ho apprezzato molto, diciamo che lo avrei liquidato come qualcosa che non mi ha convinto. E che quindi avrei messo da parte. Sono comunque felice di averlo visto perché c'è una... Ci sono alcune cose molto belle in questo film che sono legate proprio alla rappresentazione, anche metaforica, di alcuni concetti. E lo fa con degli elementi che sono degli oggetti oppure delle ambientazioni. La prima ambientazione che mi ha colpito tantissimo, affascinante, è un cinema. Perché? Perché siamo in questo cinema dove la polizia crea una piccola task force per risolvere questo caso e decide di mettere il proprio ufficio in un cinema che ha chiuso. E dove lo fa? Lo fa su questo palco, su questo palco dove c'è lo schermo. Quindi questo rende tutto il film già molto metacinematografico ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Poi c'è una scena in particolare dove il protagonista fa dei sogni, fa dei sogni, fa un sogno. E questo sogno lo fa, guarda caso, appunto addormentandosi sulle poltrone di questo cinema. E questo sogno è quasi, secondo me, la rappresentazione del cinema. Ed è molto bella questa metafora, perché lui nel sogno monta insieme, come se fosse un montatore, un montatore video, un montatore del cinema, monta tutti gli elementi che ha, tutti gli indizi, racconti, le testimonianze, crea una sorta di film in versione sogno di ciò che è accaduto veramente. Quindi è una sua rappresentazione assolutamente personale di quello che è accaduto. Infatti è surreale, non ha nessuna possibilità di essere realmente ciò che è accaduto. È qualcosa che lui compone, che diventa quasi un incubo. Un incubo che poi, appunto, si ferma, si interrompe con l'incendio di una impresa cinematografica che lui cerca di spegnere. Quindi è proprio tutto questo bellissimo momento di cinema, metacinema, e appunto di rappresentazione di come si crea un film e come si può creare un film nella testa, è come il sogno è un film, come noi siamo anche registi quando sogniamo, siamo come dei registi. Abbiamo nella nostra testa tutti gli elementi per fare un film. Abbiamo il montaggio, abbiamo gli effetti speciali, abbiamo gli attori, perché noi possiamo creare nei nostri sogni tutte queste cose. E quando poi ci svegliamo e ci ricordiamo, per quei pochi minuti ci ricordiamo ancora qualcosa di quel film che abbiamo creato, è qualcosa di pazzesco. E pensiamo, cazzo, devo subito scriverlo, devo subito... Perché sarebbe una cosa assurda, qualche significato ce l'ha. Boh. Però ecco, quello che viene creato in questo film è proprio questo, ed è veramente bellissima questa cosa. Purtroppo il film, però, è veramente molto molto lento e pesante come fruizione. Anche delle cose particolari che non ho, diciamo, capito, nel senso che scelte che non ho capito, nel senso che ci sono un paio di momenti dove la pellicola ha l'effetto pellicola rovinata. Stiamo parlando di due secondi un paio di volte. Cioè, tutto il film non ha questo effetto. Avete presente l'effetto pellicola rovinata con i pelucchi e i graffietti? Ecco, quell'effetto lì, che è un effetto palesemente messo in post-produzione, onestamente è una cosa che non ho assolutamente capito. Cioè, messo così a caso, in due punti... Quindi è un film che non si fa capire. E non si fa capire neanche nel finale. E questo lo rende a tutti gli effetti un film veramente poco accessibile al grande pubblico. Ribadisco però che per un cinefilo amante di un certo tipo di rappresentazioni astratte, anche filosofiche, sul cinema, il metacinema, ci sono dei momenti che sono davvero, davvero graziosi. Quindi io diciamo che sono contento di averlo visto. Comunque in un certo senso mi prendo quello che di buono ha. Ecco, questo è il film di Wei Shujun. Recitato bene, ragazzi, la qualità è ottima. La qualità della recitazione, la qualità della fotografia, delle riprese. Cioè, è veramente un ottimo film. Non a caso appunto è stato selezionato per la lista dei film della categoria Hans'Hergard di Cannes. Quindi però qualcosina che non solo io non ho capito, perché poi mi sono anche confrontato con altri. Veramente è un film che ha delle cose non chiare. Per il resto comunque vi ho spiegato com'è. Se andrete a vederlo fatemi sapere se l'avete visto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Lasciate un commento, iscritti al canale e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.